Buon venerdì e buon weekend a tutti. Allora faccio questo video qua per ringraziarvi tutti. 200 iscritti sul mio canale sono un bel risultato, cosa che fino a poco tempo fa non immaginavo nemmeno perché fino a qualche mese fa avevo 33 iscritti e adesso sono arrivato a quota 200. Un grazie a tutti di cuore, mi fa piacere che mi seguite, vuol dire che a questo punto il canale piace e continuerò così a mettere sui video ogni settimana sia del rompiballe show che del legnano o anche di altre cose. Grazie ancora di cuore a tutti, mi fa piacere, ciao e buon weekend.